Mister, cinque anni dopo si torna a Pesaro, l'hai fatto notare, l'hai fatto capire anche in conferenza stampa, un pezzo di tuo cuore è sempre rimasto qui, però è stata un po' spiazzante questa chiamata rispetto a quelle che erano le tue idee alla vigilia. Sì, è stato un fulmine a ciel sereno, un momento inaspettato perché comunque avevo altre strategie sul mio lavoro, dove sarei dovuto andare e nel momento in cui mi ha chiamato la vis Pesaro c'è stato un attimo di esitazione su quello che per me rappresenta la città, i tifosi e poi in secondo luogo la scoperta di una società che è lungimirante, attenta, un presidente che è tra virgolette visionario con genialità. Tutta Pesaro, tutti i tifosi pesaresi ricordano la vis 2016-2017, le chiedo quanto è cambiato Sassarini in questi cinque anni, c'è stata una contaminazione di esperienze avute e ci sarà anche una differenza perché quella era la Serie D e questa è la Serie C? Sì, ci sono stati tanti anni, faccio l'esempio della metafora delle auto, le auto si evolvono nel 2016 erano di un tipo, nel 2022 sono di un altro ma rimangono con le stesse caratteristiche, noi avremo le stesse caratteristiche, gli stessi principi, la stessa identità, vogliamo provare a fare nostre partite a nostro modo provando a giocare, provando ad avere la palla, dovendo chiaramente aggredire con maggior vehemenza gli avversari perché se vuoi la palla devi essere più cattivo di loro. Queste saranno le caratteristiche che vogliamo e poi dopo non dobbiamo porci i limiti, dobbiamo lavorare a testa bassa dal primo giorno, dal primo minuto, dal primo secondo di allenamento, pensando che alla domenica vogliamo essere protagonisti in questo modo. Poi è chiaro che i risultati fanno parte di un altro aspetto ma spesso poi vanno di logica con come hai lavorato e come hai partorito la partita. Con l'impegno, la dedizione, l'ambizione ma soprattutto con l'impegno perché tanta gente viene da cose semplici e quindi noi dobbiamo attraverso le cose semplici che sono poi la determinazione, la voglia di fare la partita noi attraverso grande sacrificio e grande voglia di fare la partita con la palla e nei momenti senza palla di volerla riconquistare, di avere attenzioni. Quando la gente vede l'impegno mi ricordo una partita che perdemmo dicembre, mi ricordo, mi sembra che non fu fermana, vi spesero fermano a 0-1, la gente ci applaudì perché aveva capito che avevamo dato tutto. Dobbiamo far quello, poi è chiaro che i risultati poi ti ripagano anche perché le prestazioni poi vanno anche di pari passo con i risultati.